Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 di noi questo è quello che andremo a fare oggi un giro per le campagne qui anzi mettiamoci in testa che quello che vogliamo fare oggi è vogliamo andare in città e vogliamo comprare un fucile non abbiamo un fucile perché al momento vedete abbiamo nello zaino solo la pistola diciamo il gioco è molto rispetto all'online secondo me è migliore intanto il cavallo sta facendo i suoi bisogni qua in mezzo e vedete che resta lì ci potete finire dentro ci potete scazzotare sopra ci cadete dentro vi sporcate la giacca insomma degli escrementi del cavallo il cavallo una bisaccia e possiamo andare a prendere cose hanno un fucile ce l'ho ho anche l'arco dire la verità vorrei cambiare pistola allora o vorrei ecco facciamo quello vedete ho anche l'arco posso andare a cacciare perché se a tempo perso mi metto qui e mi metto a cacciare la caccia con l'arco farà sì che scuoiando la creatura l'animale avremo una pelliccia migliore quindi potremmo andare addirittura seguire le tracce quindi seguiremo le tracce dell'animale evitando di farci sentire e quindi diventa anche un simulatore di caccia è veramente un gioco eccezionale e non stiamo parlando ancora di storia quindi questo è quello che è il gioco da offrire adesso voglio mettere voglio mettere ok tutto nella sella prendo il fucile no dai il fucile non vabbè me lo metto salgo a cavallo e possiamo anche andare a spostare la visuale e metterla così e diventa kingdom can deliverance in tutto e per tutto con le pistole ovviamente allora che cosa facciamo adesso adesso prendiamo la mappa e impostiamo un punto qua andiamo in a valentine che è una città ok chiedo scusa per il ok per i messaggi che mi arrivano ok partiamo quello che succede qui sono tutti eventi casuali quindi noi viviamo in un mondo pulsante vivo con gente che fa la sua routine ci sono imprevisti possiamo trovare gente che litiga qualcuno che ha rapito qualcun altro possiamo decidere di prendere il treno farci un giro è tutto sempre molto bello da vedere perché c'è un meteo dinamico temporali in alcune zone c'è anche la neve camminiamo attraverso la neve il il terreno si infanga noi cadiamo nel fango ci ricopriamo di fango la gente ci guarda male ogni zona ha una sua temperatura un suo clima qui ci sono circa 7 gradi quindi magari in ambienti così se si aggiriamo torso nudo soffriremo un pochino avremo meno stamina possiamo ovviamente decidere di andare a uccidere chiunque però se veniamo visti veniamo denunciati quindi ci sarà una taglia che avremo ricercati fino a quando non pagheremo la taglia la taglia che poi può diventare anche molto alta inizieremo ed è una cosa rara nei videogiochi a prendere familiarità con l'ambiente c'è la mappa la guarderemo la guarderemo all'inizio ma poi la guarderemo comunque sempre ma sapremo come funziona dove ci troviamo io so adesso che qui c'è la stazione perché valentine ha la stazione leggermente fuori e quindi sappiamo che qui c'è comunque un ufficio postale dove possiamo pagare le le taglie e qua arriviamo in città inizieremo a prendere familiarità con tutti i luoghi e le personalità delle varie città la mappa è assolutamente enorme e il motivo per cui questo gioco è veramente vedete quanto non ho esplorato ancora è veramente enorme enorme davvero il gioco è stupendo per questo perché ci fa vivere il far west così com'è ovviamente se odiate il far west odierete anche il gioco il gioco è uscito per pc da poco ha ancora dei diversi problemi perché mi è già cresciato un paio di volte perché non apprezza molto il software di registrazione guardate le impronte del cavallo se io mi metto a scazzottare con qualcuno e finisco giù e ci scazzottiamo nel fango loro parlano possiamo anche interagire con loro cioè la gente ci può insultare possiamo rapinarlo parlargli io gli parlo tutto bene lui ci risponde tutto sottotitolato se uno ci insulta in giro possiamo calmarlo ma in fondo c'è la stalla tra l'altro possiamo andare a cambiare tutto a cambiare le cavallo acquistarne altri mettono installa allora adesso io non so dove sia perché lì c'è il saloon vorrei andare a comprare le armi ma le armi non mi ricordo dove le vendono si salve salve buongiorno eh salve lì c'è un altro saloon vediamo se si comprano qua le armi non mi ricordo poi dobbiamo ricordarci di legare il cavallo perché il cavallo magari potrebbe andare in giro e da fastidio quindi dobbiamo ricordarci di legarlo ma ovviamente non si può legare dove si vuole vanno legati a questa staccionata quindi andiamo qui sto fermati ok si può andare a caccia a pesca si può andare a craftare oggetti perché noi avremo il nostro accampamento io sto cercando di evitarvi assolutamente di spoiler ma vi sto dicendo il perché ritengo questo gioco veramente spettacolare ok si le vendono qui perché è lento estremamente lento ve lo vivete come se foste voi lì davvero e calcolate che quello che stiamo vedendo adesso questa piccola storia che vi ho raccontato partendo dalla patria e arrivando al negozio non ha niente a che fare col gioco c'è la percentuale non sale di 0,1% allora sfogliamo il catalogo va mi faccia vedere buon uomo si 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 qua sta alludendo a uno scontro che abbiamo fatto allora fuci da canna liscia canna rigata canna rigata dovrebbero essere quelli da cecchino stiamo negando l'evidenza ma canna rigata no hunting iphone poi ci dice quelli che possediamo già voglio tornare all'indice vediamo canna liscia canna liscia però credo siano quelli da eccolo qua costa 190 dollari ne abbiamo solo 188 peccato peccato non ce lo possiamo permettervi con la cecchino possiamo andare invece andare sui revolver e vedere quello che possediamo noi al momento dovremmo già possedere in possesso ok possiamo andare anche a dovremmo poterlo fare da qua accessori vedete possiamo prendere la bandoliera migliorata le frecce la fondina migliorata ci permette di estrarre forse più velocemente abbiamo l'olio per armi mantiene l'arma pulita perché anche quello è importante pulire la nostra arma ora io vorrei fare un'altra cavolata vedere se è possibile guardate quanti piccoli particolari lui che muove la mano mentre e gli rimetteva un posto il catalogo possiamo andare a personalizzare il revolver che abbiamo possiamo pulirla farla pulire lui e credo che dobbiamo farlo per forza poi le componenti possiamo andare a modificarla quindi siamo dei possiamo metterlo in perla in ebano in legno ferro vorrei la canna si può andare a determinare la lunghezza quindi fare una canna lunga ci va a cambiare un pochino le caratteristiche dell'arma la rigatura quindi la precisione scusate la gittata la gittata aggiungere un mirino mirino migliorato che va a migliorarci la precisione in questo caso e possiamo andare anche ma non so dove eccolo qua estetiche a aggiungere degli intagli a quello che è il legno e delle incisioni sulla canna cose assolutamente inutili ma che faranno della nostra pistola una pistola unica ci serve un coltello da caccia? no abbiamo anche un coltello da caccia ma non possiamo farci nulla al momento buongiorno grazie abbiamo visto non lo so non lo so io sono uno a cui scotch andrà via senza comprare niente vorrei anche comprare la canna da pesca che non ho però armi a ripetizione vediamo un po' cosa c'è eh sì è il fucile che possiedo infatti infatti invece le pistole normali voglio vedere cosa sono zero ok la volcanic bella me l'ha data gratis probabilmente perché è una delle delle cose che davano con l'accesso con la versione deluxe pistola normali express le prendiamo munizioni veloci dai ok abbiamo la pistola nuova grazie la ringrazio molto buon uomo lei è stato veramente gentile e siamo a posto abbiamo comprato la pistola siamo andati siamo andati in città vorrei adesso dato che siamo qui e il cavallo è andato dove caspita vuole no è andato di là ok no è là legato ok vorrei andare scusi perdoni dovete fare attenzione anche a come camminate perché se entrate tipo così e finite addosso a qualcuno lo buttate a terra parte la rissa è così come a cavallo e il cavallo se vi schiantate ad esempio contro il tarino piuttosto che un carretto il cavallo muore quindi possiamo vendere ma potremmo anche vendere vabbè voglio sfogliare il catalogo perché voglio comprare la spazzola per la cura del cavallo e se la trovo scusi medicina rivitalizzante per cavalli è utile quando vi cade a terra ed è in fin di vita la caffettiera per fare il caffè mentre siete in giro grilli vivi per le esche esche da lago mamma mia cioè lo so già io non e tra l'altro altra cosa importante non avere gomma e la cocaina si ci fa salire praticamente lo slow motion si 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 sono d'accordo va bene no dai la spazzola non la compro vorrei comprare la canna da pesca se possibile ma non me lo vendi non mi vendi la canna da pesca esche da lago qua siamo già nella tutta la serie di abiti senza fine i kit i non i kit i completi ecco diciamo chiamiamoli così anche qui vendono munizioni grazie a lei non compro niente mi spiace però ci sono anche alcuni negozi che hanno attività illegali sulla retro comunque qua non dico nient'altro questo porta l'asse qua c'è un saloon che stanno sistemando quindi vedete proprio c'è il lavoro intorno il tizio qui sta portando l'asse dietro arriva un carretto guardate che lascia proprio le impronte per terra e troverete gente che magari porta prigionieri piuttosto che merci preziose potremmo andare a rubarle questo è quello che si può fare senza toccare minimamente la storia adesso vogliamo andare a vedere se si può se c'è qualcuno a cui darà fastidio perché ovviamente poi la storia vi porterà a confrontarvi con altre bande io non nomino nessuno probabilmente magari lo leggerete a video qualcuno lo ha detto degli NPC ha citato delle bande magari adesso non so cosa accadrà perché questo è il bello del gioco però voglio provare ad andare in giro e e vedere se incontro qualcuno io come ho deciso di fare un tipo di personaggio di interpretare la vita di questo signore in modo particolare resterò buono fino al momento in cui qualcuno non mi provoca un po' come il Marti di Ritorno al Futuro tipo prima uno mi ha detto se non la pianti ti sparo men che non si dica ok boom ucciso di colpo l'ho sparato io l'ho ucciso fortunatamente non c'era nessuno se no avrei dovuto uccidere anche i testimoni perché i testimoni poi vanno a spifferare tutto qua c'è il nostro accampamento ma non ve lo mostrerò perché non è mia volontà spoilerare niente volevo solo farvi vedere come si può raccontare una storia con un gioco del genere solo giocando giocando semplicemente è un gioco che non vi mettete lì e dite andiamo avanti anzi il gioco se vi piace il far west se vi piace la simulazione di vita vi farà diventare tristi quando vedrete al momento di salvare la partita che la percentuale di completamento del gioco è salita ed è la stessa sensazione che ho provato io mi è capitata poche volte nella vita assalto al treno no direi di no perché è una cosa troppo grossa uh apri quella serratura oppure dammi la chiave eccoli cosa sta succedendo ragazzi avete dei problemi con una serratura state rapinando qualcuno no è tutto vostro non trovate la chiave voi chi non dovete far parlare avete ah ok bene vedete io adesso ho puntato lo slow motion e ho ucciso tutti ok diciamo che la pistola nuova è bellina parla come va tutto bene io potevo fare anche in modo diverso potevo ucciderlo e fregargli la roba che ha dietro poi magari me la da comunque però è una cosa successa a caso io stavo seguendo il fumo perché il fumo nasconde accampamenti farà comunque passare la cosa per un furzo se riesce a prendere con la cassetta può prendere il contenuto ok non mi piace molto questa pistola perché non fa molto fra west anche se in realtà dovrebbe esserlo va bene allora devo fare attenzione che è la dinamite perché ok frughiamo aspetta sto sto no vediamo prendi cartuccia ripetizione verdure in scatola sto prendendo tutto verdure in scatola non ci sono soldi i titoli no no vabbè possiamo lootare la gente comunque opp scusi fruga ok mi ha dato cartuccia revolver potrei anche credo fare una cosa di questo tipo tabacco da masticare io potrei anche liberare i cavalli sì eh sì sono un un animalista posso calmarli liberarli e poi se ne vanno per i fatti loro oppure posso decidere di addomesticarlo insomma vabbè ragazzi due li libero due no così vattire solo a destra allora ok intanto vedete che ci sta salendo anche la come facciamo in gta ovviamente cambierà anche il nostro peso quindi in base se mangiamo tanto se corriamo tanto se stiamo sempre a cavallo guardate il sangue ho caricato sulla mia spalla il il tizio lì morto e mi si è sporcata la giacca di sangue possiamo andare a fare il bagno possiamo buttarci nel lago e quindi sciacquarci ovviamente la gente ci guarderà male se siamo vestiti male se siamo sporchi di sangue ok lì sotto c'è qualcosa e io poi chiuderei qui perché credo di avervi dato già abbastanza spunti su quello che il gioco ha da offrire io adesso c'è quel promontorio lì io mi metto sopra prendo il fucilozzo farino col cavallo scendo vediamo se ho già ok questo potrei ucciderli con l'arco ma non sono molto bravo adesso zitti zitti vediamo chi c'è giù e poi oh ho visto muoversi qualcosa qua allora vediamo poi magari sono dei villi ci chiudiamo qui insomma però di solito il fuoco c'è un cavallo ok voglio vedere se me lo punta che cosa mi dice e non puntare ah no ok è pacifico no 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 scusi chiedo chiedo perdono pensavo fosse una banda di di banditi eh anche se ce ne sono tanti in questa zona mi chiedo chiedo perdono mi ha visto subito lei eh eh d'altronde guardavi nella mia reazione quindi non è che no 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 ah ok 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 terzo occhio perché ok niente ero venuto qua pacificamente vabbè riposa vicino al fuoco crea cucina possiamo andare a pesca ma non ho la canna è per cucinare comunque vabbè ispezioniamo la cassa del signore perdoni eh adesso non le serve più allora a dentro un tonico miracoloso lo prendo vedete lì in basso a destra basta ho visto vedo dei soldi dentro vabbè eh vabbè poi tante volte nascondono anche qualcosa che se hanno ucciso qualcuno stanno nascondendo un cadavere ho notato delle cose strane allora fruga no 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 che sono già sporco di mio eh vabbè volevo vabbè la pistola possiamo prendere però non mi interessa io voglio frugarlo e vedere che cosa ha addosso cartuccia ok guardate che eh sono diventato più cattivo eh sì mi è calato il karma vedete che bello l'acqua e i cavalli poi si spaventano vabbè eh direi che è quasi tutto distruttibile quasi tutto ci sono alcune cose non non distruttibili sì quella infatti è una cassetta di ferro no queste cose costruite così no probabilmente sono messe qui così ma in realtà le lanterne gli oggetti sui mobili saltano tutti eh il bello della scoperta questo gioco davvero perché adesso andiamo qua nella foresta c'è qualcosa c'è proprio l'antitesi di quello che è un mondo vuoto che si trova in tanti altri giochi guardate là in fondo c'è che cos'è là in fondo prendo la mappa vado a vedere però credo sia è il proseguire della mappa che non ho ancora esplorato infatti là in fondo c'è un altro villaggetto poi c'è una città enorme che non vi faccio vedere perché non è la mia volontà quella di spoilerare la roba e niente fatemi sapere che cosa ne pensate questo non è stato un video gameplay diciamo di giochiamoci la storia insieme perché secondo me non hanno senso sui giochi di questo tipo eh neanche un quanto è figo quanto è brutto è un più un vi faccio vedere che cosa ha da offrire il perché io lo ritengo un'esperienza ed è senz'altro una una grande esperienza adesso non si sa che cosa ci sia qua dentro ma va bene perché in una mezz'ora non abbiamo fatto assolutamente niente ma abbiamo vissuto la vita di un poveretto questo qui un personaggio qua che è partito è andato in città ha comprato una pistola e poi è uscito e si è lasciato in balia degli eventi quindi eh una rapina che abbiamo beccato lungo la strada e poi un malinteso con un poveretto giù in spiaggia però vabbè quello è un dettaglio fortunatamente non ci ha visto nessuno però si è stati provocati perché ha iniziato a spararci lui quindi ragazzi questo era Red Dead Redemption per pc costa 59,99 è molto scalabile come grafica però vi dico se avete un pc vecchio che comunque non vi fa girare le cose bene valutate le console perché al momento il gioco io lo gioco bene una 970 ho le texture ultra il resto misto tra ultra e alto quindi sono stato anche piuttosto fortunato ad avere una 970 e far girare il gioco così però è molto potenziabile più di così graficamente ma è molto bello comunque però si può fare di più però ancora problemi di crash quindi lo stanno patchando molto e quindi niente adesso chiamiamo il cavallo e me ne andrò ragazzi con questo è tutto alla prossima e ciao ciao grazie a tutti